Tre date determinanti per il futuro di Berlusconi e di Fitto, l'8, il 10 e il 15 marzo. La prima data, non certo per le celebrazioni della giornata della donna, segnerà in Puglia la non partecipazione dei fittiani alla convention di apertura della campagna elettorale di Schittulli, ma anche la prima occasione per capire quale sarà il futuro di Forza Italia e di Silvio Berlusconi per la libertà assoluta del leader o nuovo stop. Il 10 la sentenza del processo Rubiter con l'ipotesi di arresti domiciliari e il 15 nuova strategia fittiana a seconda delle decisioni della magistratura, mentre in Puglia ci sarà una mobilitazione per la presentazione da parte dei soli rottamatori del professor Schittulli, candidato alla presidenza della regione. Prima di questa data non dovrebbero esserci incontri ravvicinati con il coordinatore Vitali, nulla si deciderà sulla presenza di liste fittiane, mentre giovedì 5 ci sarebbe in agenda una riunione di tutto il gruppo consigliare alla presenza di Zullo per un chiarimento dopo lo scontro e la non partecipazione a quello voluto lunedì dall'ex sottosegretario. La vera partita sarà successiva alle date di interesse giudiziario che vedono protagonista il leader di Arcore e dopo le elezioni regionali che dovrebbero portare, al di là dei risultati, alla chiusura di Forza Italia, visto anche il ritiro delle fide iussioni per 80 milioni di euro a garanzia del partito e al consolidamento dei club di Forza Silvio, motivo principale per cui non si placa l'opera dei ricostruttori di Raffaele Fitto. In attesa di tutto ciò, cresce la fibrillazione di molti consiglieri uscenti o nuovi candidati per le elezioni di maggio. Questi possono al momento scegliere tra il leader di Arcore e quello di Maglie, ma non possono ancora dire in quale lista saranno candidati e se il voto disgiunto possa rappresentare una tentazione o una velenosa strategia.